Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante Divalico in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in Fipilì in direzione Mare e code in uscita alla Strassigna e rallentamenti in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Si ricorda inoltre che in A15 a causa di lavori sono in vigore restringimenti e scambi di carreggiata tra Pontremoli e Berceto con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni. Treni sulla linea Faintin è stata riaperta a partire da oggi la circolazione ferroviaria tra Faenza e Marradi interrotta dal 22 settembre a seguito di ingenti danni provocati dal maltempo. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!